Il poker all'improvviso. Il poker all'improvviso è il sogno di tutti i pokeristi mondiali e cioè quello di realizzare un poker formato da sempre da quattro carte uguali fra loro. Adesso io sfoglierò questo mazzo e con l'aiuto dei quattro miei assistenti quando mi danno un stop io fermerò e poggerò la carta sul tavolo. Iniziamo con il primo. Stop! 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 Ok adesso vediamo, adesso vediamo, girando la prima carta, un asso. La seconda carta, sempre un asso. La terza carta un asso e la quarta un asso. Poker all'improvviso. Ok. Ok. Grazie a tutti.